Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Oh puttana, grazie John Ho letto le storie su insta, so che non abbiamo chissà che rapporto però se mai volessi parlare seriamente ci sono In Islanda non posso ospitare più di una persona in stanza ma se non subito Mi farebbe molto piacere Grazie John Sì bro, situazioni un po' strane Ma avvenimenti del passato, ahimè Avvenimenti del passato con ex collaborazione Sì, secondo me era organizzato, era una cosa già premeditata Quindi stai dicendo che la Rai ci piglia per il culo come sempre Magari lui è esagerato, boh, non lo so E' chiaro E quindi non considera Blanco un ragazzino maturo, caffone E che merita di essere radiatro al festival Assolutamente no Va bene Forza Blanco, la Rai è una merda, l'ha sabotato! Noi sabotati la Rai! Bro, chiedo scusa cara Anche a te Chiedo scusa cara Ci sono ancora una foto? Certo, certo, certo Ho giocato al crazy time ragazzi, però cos'è sta foto bro? Perché tu mezza faccia e io una faccia? Eh perché sennò non è più male Dobbiamo venire, ma tu non vieni male E poi ci sei tu, cavolo Anche io sono brutto bro, è normale Purtroppo siamo andati così Ciao bro Insomma Male, male, male Coin, fermati No, va sul 10 davvero? Nah Boh, offendilo, siamo a Gianji Aspetta, vai Gianji, già dal nome sei un pirla Sei un giorgiana Vai, torna a pettinare le bambole Vabbè Gianji Spona stridenta a questo punto No, dai Parlo questo Mirate per favore il permesso di skipparlo Grazie signor T A spinnare l'Elkno 3x2 Con 8 giorgi Per favore Guarda Poi quel 20 vero a fianco Che troiata sta slot Dio porco I gufi Mi ha chiuso Ormai Oggi è stata una giornata un po' moribonda Fino a mo' Daddy e Michelle e Dunkle se ne partono Un programma di Se vieni a Roma ti faccio uno sbiancamento gratuito bro No, 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 non lo so La vita non lo so Non lo programmi bro Se vuoi capitare a Roma Bella Ci metteremo Grazie Diego Bentornato Grazie per i due Il programma è Daddy, Michelle e Dunkle Ok Bella seba Grazie per il ricetto Gucciolo Ciao Ludo Oggi ho allenato le gambe e giocato Tu? Io mi sono svegliato alle 6 E poi ho iniziato a fare Ludo Trocandomi, bevendo e mangiando merda Questo è il mio Non è vero Ma c'è un quantitativo mentale Che ti sei messo che Se prendo questa determinata somma Smetto di giocare Cosa che guardo? Cosa sarebbe una camicia C'è in scuola 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 Popolo dell'Ariston Viva la figa Grazie Sempre viva la figa Amadeus portaci a puttane Amadeus portaci a puttane Amadeus portaci a puttane Amadeus portaci a puttane Basta possiamo andare via adesso Ull in accina shop Bet 80 centesimi Sedicesimo bonus Questo è carino bro Il bonus eh Qua però prendo sempre il bonus Cioè sbaglio sempre bonus Lo prendo senza vedere Io non Non l'ho mai preso Quindi non Quale faccio raga? Free spins felici Free spins orgogliosi O free spins arrabbiati Certo fra è solo per il segno vicino Che facciamo raga? Oh my god Vabbè 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 Big Buzzkeeping di 3 La bet 60 centesimi 5 5 5 50 euro 5 bonus Sarebbero quasi 400 Sarà un certo non campa Grazie gli streamer Che vengono lì a fare I nomi in live Noi andiamo ai concorrenti E ci inventiamo qualcosa di più figo Eh ma di scroffi davvero Mi fai te pagare Non dobbiamo fare le stesse stronzate Che fanno loro però Qual è il tuo hotspot pastile? E aspetta che c'è un obiettivo Per lì ma da che vai il scroffiato un mese? E poi tu stai... Ah Ti stanno salendo la picciona o i miei 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 Questi sono un sacco di soldi Questi sono un sacco di soldi Questi sono un sacco di soldi Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Yes Her Cazzolina Come cazzo paga sta slova? Ma come cazzo lavora? Non fermarti adesso Non vorrai mica fermarti adesso E non si ferma Se butti per due sei matto Non sei matto Va bene però Sono soldi, sono soldi Non lo so Eh ma qua non ci sono mod Porco dio Che palle Che palle Qualcuno scriva a pastino a qualcuno dei miei mod Qualcuno scriva a pastino a qualcuno dei miei mod Dio stronzo Dio porco Sina Bro Ma subito Ma bro ma Devi leggere la chat Devo insegnarti il lavoro Eh febine Lo so Ah scusami hai ragione speed horse È febine C'è Hai già supportato abbastanza bro Vieni qua passina E ora corri Dai Oh 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 C'è 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 Ne devi fregare un cazzo, passina, tu hai solo un obiettivo adesso nella testa Mettere il penzo nella fica Quindi concentrati nella tua testa su quello che vuoi No! Aia! Il telefono, bro! Il telefono! It's ok, it's ok! Il telefono! Il telefono! Il telefono! Grazie.